Ben trovati i telespettatori del VG21 mattina 7.56, ritorniamo a parlare con la nostra rubrica mia economia, di economia ma soprattutto anche di info utili per gli utenti che ci seguono chiunque ha più o meno un conto corrente bancario. Una indagine di Banca Italia ha evidenziato un incremento dei costi dei conti correnti, ma noi questa mattina con il nostro Fabio Tarantino in esterna e ringraziamo Roberto Mercurio, il suo ospite, il coordinatore Fabi Napoli, vogliamo rispondere proprio a questa domanda. Fabio, quanto costano i conti correnti? Eh sì, bella domanda, tra l'altro sarà una delle principali tematiche che affronteremo questa mattina, io mi trovo nella sede della Fabi Napoli, Federazione Autonoma Bancari Italiani con il coordinatore Napoli Roberto Mercurio che intanto saluto e che ritroviamo, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Ecco, mia economia, rubrica che sta avendo grande successo, pillole di economia trattando vari temi, in passato abbiamo ad esempio proprio con lei, dottore, parlato dei mutui, questa mattina abbiamo scelto di parlare dei conti correnti, partendo da un'indagine di Banca Italia, come ricordava Antonio Salamandra, relativa ai conti correnti del 2022, poi scopriremo anche i risultati che sono particolarmente indicativi, partiamo però proprio dalla base, ovvero perché si parla di conto corrente, cosa si intende per conto corrente e soprattutto quali tipologie di conti correnti sono presenti e quindi disponibili. Allora, buongiorno innanzitutto. Diciamo che il conto corrente è uno strumento molto importante perché consente di effettuare le principali tipologie di pagamento come i bonifici, l'accredito dello stipendio, l'accredito delle pensioni, la domiciliazione delle bollette, l'utilizzo di carte di credito, l'utilizzo di carte di debito e quindi l'utilizzo soprattutto del banco per i prelievi presso gli ATM automatici. Oggi il conto corrente è venuto utilizzato prevalentemente attraverso l'internet banking o le app da cellulare, da smartphone o anche con il phone banking perché i principali istituti di credito hanno attivato dei call center a supporto della clientela. I conti correnti, volendo semplificare, si possono dividere in due grandi categorie, conti correnti tradizionali e conti correnti online. I conti correnti tradizionali sono quelli che ci consentono di fare le operazioni presso le filiali fisiche con il supporto dei gestori. I conti correnti online invece devono essere utilizzati esclusivamente attraverso le app o attraverso l'internet banking, ma vanno per la maggiore perché come vediamo fra poco sono molto più convenienti. Ecco, quindi ci sarà anche evidentemente una differenza economica legata proprio all'indagine di cui parlavamo in apertura, però dobbiamo anche ricordare che quando si parla di conti correnti online molto spesso si fa riferimento magari a banche che sono, dottore, meno note rispetto ad altri. Quindi la domanda ricorrente di chi ci segue potrebbe essere il risparmiatore o mai la banca dovesse andare in difficoltà, verrà tutelato eventualmente? Come poi? Allora, il risparmiatore può stare tranquillo perché se la banca va in difficoltà e tecnicamente diremmo liquidazione coatta amministrativa interviene il fondo interbancario di tutela dei depositi che è riconosciuto da Banca d'Italia a cui aderiscono tutte le banche italiane. Le banche di credito cooperativo invece hanno un loro fondo che opera però in maniera analoga. Il fondo interbancario di tutela dei depositi ristora il risparmiatore fino a 100 mila euro per banca. Che vuol dire fino a 100 mila euro per banca? Che se io devo depositare 150 mila euro li posso depositare su due banche in modo che ho il ristoro totale. Ecco, credo che da questo punto di vista sia stata questa una precisazione assolutamente importante poi altro dubbio ricorrente. Abbiamo capito molto bene dottore quanto sia importante avere un conto corrente per chi agevola poi gli acquisti tra il bancomat e la prepagata che ci permette anche di fare acquisti online quindi in modo snello, pratico e veloce si possono acquistare tantissimi prodotti e non solo. Da un punto di vista economico rende un conto corrente, aprirlo un vantaggio oppure no? No, non rende nulla. Nel senso che il rendimento è molto molto sotto l'uno per cento e quindi diciamo si avvicina allo zero. È un'anomalia tutta italiana, in Europa non è così. Diciamo che le banche hanno aumentato i tassi sui mutui, i tassi sui prestiti al consumo, sui prestiti alle imprese in seguito agli aumenti dei tassi BCE per l'inflazione, l'abbiamo visto nella scorsa occasione, però hanno lasciato a zero il rendimento dei conti correnti. Per tale motivo, probabilmente proprio per questa forbice tra tassi attivi e tassi passivi, gli utili solo dei principali gruppi bancari del 2023 saranno di circa 22-23 miliardi. Ieri abbiamo visto gli utili enormi di Unicredit. Il governo per tale motivo ha introdotto la tassa sugli extra profitti che però attraverso una serie di rimaneggiamenti si è dimostrata un flop. Quindi che cosa possiamo consigliare al risparmiatore che deve depositare, deve parcheggiare delle somme semmai in attesa di comprare un appartamento, di fare degli investimenti in titolo di Stato? Possiamo consigliare il conto deposito. Il conto deposito è un conto che non consente di fare le operazioni di pagamento, però ti consente di fare un investimento a breve termine che ti porre neanche il 3-4% o qualcosa in più all'orlo degli oneri fiscali, in linea direi con i titoli di Stato. Ecco, pillole di economia in valore assoluto con il coordinatore della Fabi Napoli, Roberto Mercurio. Abbiamo parlato dei conti correnti, quindi insomma abbiamo anche spiegato le varie tipologie, però adesso torniamo all'attualità perché Davide Antonio, vengo da voi, siamo di fatto reduci da un'indagine di Banca Italia che è stata decisamente interessante e che poi è il punto principale della rubrica di oggi. Quindi a voi per la domanda conclusiva. Sì Fabio, perché vogliamo rivolgere questo quesito al tuo ospite, si parla di questo aumento indiscriminato dei costi dei conti correnti bancari, ma è proprio così? Sì, è proprio così. Ci sta infatti un'indagine molto importante della Banca d'Italia che ci fa capire che c'è stata proprio una stangata sui costi dei conti correnti. Partiamo dal vedere come si compongono i costi dei conti correnti. Ci sta una parte fissa, il canone fissa e una parte variabile. La parte variabile è legata al numero di operazioni. La parte fissa è il canone mensilio, il canone annuo, che se particolarmente elevato può comprendere anche operazioni illimitate e quindi praticamente non c'è la parte variabile. Che dice la Banca d'Italia? Che i conti correnti tradizionali già nel 2022 sono aumentati nel 10% e il costo è passato da medio, da 94 euro a 104 euro. Una vera e propria stangata. La buona notizia è che invece i conti di cui vi avevo parlato prima, i conti correnti online, sono aumentati pochissimo, solo del 2%, così come anche i conti postali. I conti correnti online quindi hanno un costo medio di 34 euro, mentre quelli postali di 59 euro. Di fatto c'è un gap di 70 euro fra il costo dei conti tradizionali e dei conti online. Questo ovviamente spingerà il risparmiatore a utilizzare sempre maggiormente i conti online. Una considerazione andrebbe fatta che cioè le banche non solo hanno lucrato, in Italia soprattutto, non solo hanno lucrato sulla forbice fra tassi attivi e passi passivi e hanno fatto questi utili straordinari, ma hanno anche lucrato aumentando i costi del canone dei conti correnti. Ecco, quindi la sintesi che potremmo trarre, dottore, da questa bella chiacchierata è conto corrente online eventualmente, che è preferibile rispetto a quello tradizionale per i motivi appena citati, e poi conto deposito. Ricordiamo quanto può essere importante rispetto ad un classico conto corrente. Il conto deposito è importantissimo per, diciamo, parcheggiare o investire a breve termine i propri risparmi. Anch'esso è tutelato dal Fondo Interbancato di Garanzia dei depositi e rende quanto un titolo di Stato. Però le somme sono liquide perché comunque si possono disinvestire in 24-48 ore. Ecco, è tutto dalla Fabi Napoli. Se non ci sono altri dubbi o curiosità, ringrazio il coordinatore Roberto Mercurio. Buon lavoro, buona giornata. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie a Fabio Tarantino e al suo ospite per averci dato anche delle delucitazioni molto molto pratiche sui conti correnti.